E a proposito di previsioni, abbiamo sentito cosa dicono gli esperti del METO, quelli per intenderci che avevano visto con discreto anticipo l'arrivo della piena. Stato di preallarme per il rischio idrogeologico e idraulico in Veneto, per le precipitazioni previste per domani, per il perdurare di livelli sostenuti sui fiumi Bacchiglione, Livenza e Fratta Gorzone, lo lancia oggi il Centro Funzionale di Centrato della Regione Veneto. Qual è la situazione? Beh, domani mattina innanzitutto avremo già una copertura nubilosa compatta con le prime deboli precipitazioni, precipitazioni che assumeranno carattere moderato e più diffuso nella seconda parte della giornata e nella sera. Questo tempo è previsto per domenica, per lunedì invece è il tempo prevedente? Per lunedì mattina ci saranno ancora piogge diffuse e col passare delle ore, le zone occidentali diverranno via via meno persistenti e ci aspettiamo nella seconda parte della giornata una cessazione di fenomeni, quindi una pausa. Lunedì fenomeni in attenuazione, martedì invece? Per martedì è ipotizzabile l'avvento di nuovo impulso perturbato, anche questa volta fortunatamente la componente sarà più occidentale che meridionale, quindi le piogge non saranno abbondanti e in grado di creare particolare criticità. Ci sentiamo comunque di mantenere elevata l'attenzione, soprattutto sul fattore Farane, nell'alto vicentino, nel nord vicentino. I fiumi si ingrosseranno e i campi che erano già legati dall'alluvione vedranno un nuovo aumento dell'acqua. Tutto sommato comunque ci sentiamo di studiare criticità, similabili appena delle nostre cose all'alluvione.